Ma cos'è che compra la gente nei centri commerciali? Benvenuti in Kiwi! Ello a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, giornata, 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 video, video particolare, video nuovo, perché oggi andrò a chiedere alla gente che sta nei centri commerciali cos'è che compra e soprattutto cosa preferisce tra comprare ai negozi o comprare online e perché. Comunque mi faccio un po' degrazi loro a chiedere un po' a gente cosa ha comprato e cosa preferisce. E voi ragazzi invece, cosa preferite online o ai negozi? Scrivetelo qua sotto nei commenti dopo che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate a produttore, cosa che deve fare sempre, dagli e dagli e dagli e che oggi andiamo a vedere un po' lo shopping, com'è che va, com'è che va da queste zone. Siamo a con? Luciano. Luciano, cosa hai comprato oggi? Oggi abbiamo comprato una roba per lui. Per lui, che cos'è, lo possiamo sapere? Pantaloni e magliette. Pantaloni e magliette, quanto hai speso, quanto hai speso se si può sapere? Una trentina d'euro. Una trentina d'euro. Senti, ma oggi hai comprato d'acqua, ma compri anche online tu? Ogni tanto sì. Se dovessi fare una scelta, preferisci comprare ai negozi oppure solo online? Quale preferisci di più? Online è più comodo, perché se non puoi muoverti ti arrivi a casa. Quindi diciamo, tra una preferenza, da 0 a 10 online? 6. Ai negozi invece? 5. 5, quindi preferisci più online diciamo. Quindi hai roba per lui. Per te non hai comprato niente? Sto facendo dei giretti. Ah, stai ancora a svuotar conto. Stai a svuotar conto. Va bene, grazie mille. Cos'hai comprato? Ho comprato una maschera e un fuccante. Una maschera di carnevale hai comprato? No, no, le maschere per la faccia. Ah, la maschera per la faccia. Si può vedere, apri la busta, vediamo che c'è sta dentro. Sto al giacchetto mio. Ah, il giacchetto non l'hai comprato? No, no, uno lì già ce l'ho. E ha matto, fai vedere la maschera. La metti stasera la maschera? No, no, non la metti stasera. Vabbè, quanto hai speso per sta maschera? Due euro. Due, ma compri anche online tu? No, no. Solo i negozi? Qualche volta pure online. Cosa preferisci? Più online o i negozi? Negozi. Più i negozi. Quindi poi vedi se te fregano, vedi subito se te fregano. Vabbè, dai. E quindi mi raccomando, stasera ti metti la maschera per dormire. E quando ti la metti la maschera? La metti dopo domani. Dopo domani, a scuola? Quando vai a scuola? No, la sera ti la metti. Valerio, Valerio, che hai comprato? I vestiti per i ragazzi. De tutto abbiamo comprato. De tutto. Ciao. Ciao. Ciao belli sessi. Ciao belli dei ragazzi. Bella comunione. Chi è che fa la comunione dei tre? Che io fa la comunione? I gemelli? Voi due. Voi due. Quanto hai speso? Se puoi sapere quanto hai speso? 96 euro. 96 per tre ragazzi? Per due. Per due. Capite cos'è? Mamma mia. Secondo te hai speso tanto o poco? Poco, pochissimo. Ma compri anche online? Sì. Cosa preferisci tu? Online o ai negozi? No, i negozi. Perché le cose vanno provate. Braa. Scusa eh. Quindi preferisci più il negozio? Preferisci sì. Per altra roba, che altro? Cosa è che compri di più online? Online le cose per casa. Per casa. Accessori. I vestiti se ti stanno a fregare lo vedi subito. Per i provi. Per i provi. Anche i giochi per PlayStation. Anche i giochi per PlayStation. E tutto, compriamo anche l'iRap e se volaccio fighe. Brava, l'iRap è buono. Mi piace, mi piace l'iRap. Mi piace. Quindi da Emporio. Bravo. Quindi due ragazzi. E lui fa quanti anni hai tu? 10. 10 anni. Per corino. Vedetevi vicino? Vedetevi vicino? Yeah, va che belli raga. Marco. Marco, chi hai comprato Marco? Le cose qui da Massimo. Massimo, fa vedere che hai preso, che hai preso. Se puoi vedere, che so, scarpe, che so, vestiti. Scarpe, sì, vestiti. Quante hai spesso, se puoi sapere? 500 euro. Secondo te sono pochi o sono tanti? Sono tanti. Sono tanti e 500 euro. Ma perché? Tutta roba per te? Sì. Tutta roba. Anche se te atri bene, te tratti. Senti, ma tu compri anche online? Sì, sì. Ogni fa. Di solito, cosa prendi online? Scarpe. Scarpe. Cosa preferisci? Più online o i negozi? Negozi. Così, se te stanno a fregare, lo vedi subito. Senti, se dovessi scegliere per comprare solo online o solo negozi, cosa sceglieresti? Negozi. Much more. Much more. Fiamo pubblicità. Fiamo pubblicità. Ma magari ce cascano, ce pagano il video. E chi avete, chi hai comprato? Una tuta. Chi hai comprato? Una tuta. La tuta, per te o per lei? No, per me per me. Quanto hai speso su sta tuta? 30 euro, 20 euro. E tanto o poco secondo te? Poco. E poco. Fai vedere, se puoi vedere... Ci sono pure le bottiglie. Fai vedere, le bottiglie di che? Se stai ambriagato. No, di acqua, di acqua. Ah, di acqua. Beh, diciamo che di acqua. Ma tu compri anche online? No. Solo dei negozi? Sì, penso a Amazon. Fiamo pubblicità, sì. E che compri da Amazon? Di solito, è quello che compri più spesso da Amazon. Che è? Non lo so, magari cosa. Qualcuno, quello che ti suggerisce Amazon o compri, diciamo. Senti, ma da qua compri spesso da sti negozi? Sì. Quindi tu invece, sì, non c'è adesso tu come te chiami? Beatrice. Beatrice. Sì, ma se dovessi scegliere tra comprare solo online o ai negozi, cosa sceglieresti? I negozi. Più ai negozi, così ti stanno a fregare, vedi subito. Vabbè, vabbè. Quindi, è stata qua a tre spese? No, non ho finito. Avete? Avete? Non c'è proprio il sogno. Finito il budget, è finito. Vabbè, raga. Andrea? Soraya. Come? Soraya. Senti, che avete preso oggi? Che vedo queste buste, che avete comprato? Un giacchetto 100 grammi e un paio di scarpe. Quindi i giacchetti vanno appeso, vanno? Fatemi capire. No, è quello leggero. Ah, è quello leggero. Quanto avete speso per tutta sta roba? 35 euro. Hai speso tu o lui? Io. Questa sola è. 15 euro al grammo. 15 euro al grammo? Ho scontato giustamente il rendimento. Quindi hai speso tu, bravo, bravo, mi fa piacere. Sfrutta e l'equità. E l'equità, hanno avuto la parità dei sessi. E quindi, ma rispettato. E poi rispettato, è giusto che sia bui. Senti, secondo te hai speso tanto o poco? Poco. Poco. Ma compri anche online? Sì, ogni tanto. Se dovessi scegliere fra online e i negozi, cosa sceglieresti? Il negozio. Il negozio, così, se ti stai una fregata, vedi subito, ti stai strappato. Perché sa fare il reso. Vedi la qualità e... Meglio dal negozio, comunque. Quindi, se da domani dicono, non si può più comprare online, per te non te cambia niente. No. Vabbè, quindi è tutta roba per te? Sì, è tutta roba per te. Tutta roba per lui, niente. Non ho trovato niente. Comprate un paio di scarte, un paio di una cosa. Abbiamo cercato, non ho trovato niente. Fai il regalo. Più di uno. Più di uno, più di uno. Vabbè, quindi mostrate a continuare a fare shopping? Sì, adesso un break in cui l'aperitivo è doppio. Ah, l'aperitivo time è ora? Sì, perfetto. Adesso sì. Va caldo qui dentro, fuori, è molto freddo, ma qui... Te li scaldi con spritzzi, con spritzzi, con spritzzi, con spritzzi, con minimo. Giusto per avviare i motori, comunque sì. Questa sera? Esatto, esatto. Vabbè. Pieno piano. Vabbè, non vi embriagate. Lei è preso i vestiti, lei li ha pagati e lei guida, soprattutto. Ah, tu non vi è, quindi? E quindi che te frega? Come? E quindi che te frega? Guida lei e guida? No, ma tu sei la mia roccio ferra. Ah, vedi? È la parità dei testi. Esatto. È giù. Con la parità, quindi, cosa si prova ad essere un uomo per un giorno, portare la macchina a fare spese. E quindi, ragazzi, abbiamo visto alcune persone che hanno fatto shopping, ma hanno comprato, però diciamo che ha sempre, molta gente ha sempre preferito ancora il negozio. Bene, bene, bene. Facciamo guadagnare i negozianti che giustamente stanno a lavorare. Quindi, va bene, ragazzi, noi invece ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, voi commentate qua sotto scrivendo cosa preferite, se preferite comprare al negozio oppure online. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Noi invece, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Sciocari! Noi invece, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video.